amici oggi sono qua a barcellona aeroporto di barcelona vedete alle mie spalle la gente che sta per terra la vedete ditemi voi se è meglio l'aeroporto di tangia che più piccolo che ci sono le panchine o qui che la gente deve stare per terra stanno tutti per terra tutti vedete altre spalle altra gente per terra è tutto pieno di gente che sta per terra allora ditemi voi se l'europa è meglio o peggio ditemelo voi ditemelo voi è meglio o peggio possibile che fanno gli aeroporti nuovi belli e non mettono le sedie per sedersi cioè dove siamo dove siamo qua è la spagna la spagna barcellona e non c'è neanche per sedersi devi sei obbligato andare al bar la dittatura c'è in europa l'ho detto in europa c'è la dittatura fanno soltanto scena dire che è qui è meglio qui è meglio e la gente sta per terra per terra perché in certi paesi neanche per terra ti puoi mettere proibito e mettono le panchine per il pubblico per la gente è milioni di volte meglio io l'ho detto fuori dall'europa è milioni di volte meglio perché ti puoi sedere invece qui no la gente per terra come gli animali come le bestie capito come i tori qua la spagna come i tori per terra come le bestie cioè io non lo so se vado di là è pieno anche di là e dove devono sedersi ma mettete delle sedi mettete qualcosa per come la rambla c'erano 4 5 sedie brutte vecchie e tutta la rambla se non c'è per sedersi si è obbligato andare dentro il locale questa è una furbizia è una cattiveria invece lì a tangere dappertutto c'erano le panchine anche lungomare e hanno fatto nuovo però almeno hanno avuto testa e le hanno fatte le cose invece qui non fanno un tubo fanno soltanto i furbi e basta qui in europa fanno soltanto i furbi e basta fanno i furbi capito fanno solo i furbi a dire qui è meglio venite qui in europa che si sta meglio certo lavorando si guadagni di più ma adesso con gli euro guadagni quello per vivere e basta è quello che dico io meglio farsi un gruzzolo da andare aprire una cosa un'altra parte perché l'europa ha rotto proprio i marroni i marroni la rotti proprio da spappolate proprio questi banchieri che comandano perché anche qua comandano sempre i banchieri non si può fare niente e basta cascateci alle balle che raccontano che qui si vive meglio qui si sta meglio sì sì una volta adesso è finita è finita veramente io vi saluto perché sono appena arrivato ho bisogno anch'io di mangiare di bere di fare qualcosa anch'io il viaggio non era lungo però andiamo a farci un giro qua dai vi saluto bye bye ciao 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 ciao